Sì, assolutamente. Noi siamo partiti con un progetto che si chiama Ambassador e che ha coinvolto 29 colleghi che hanno deciso di mettere la propria faccia e le proprie passioni proprio per testimoniare sia all'interno verso altri colleghi ma soprattutto all'esterno verso i clienti e potenziali clienti o i cosiddetti curiosi che vengono a visitare il sito che la cassa di risparmio di 100 può fare la differenza anche perché le loro passioni trovano poi uno sviluppo concreto quindi dalla musica alla cucina allo studio magari di qualche lingua particolare. E questo ovviamente ha creato una serie di like e abbiamo potuto valutare che i like, i post in organica di queste persone quindi della loro faccia avevano più successo del semplice prodotto oppure delle interviste magari istituzionali. Quindi ci siamo convinti che era la strada giusta e sicuramente continueremo a reclutare altri Ambassador. Come funziona concretamente questo progetto? Allora noi abbiamo nella nostra pagina Facebook presentato con cadenza periodica un Ambassador ogni due settimane creando coinvolgimento tra le persone e quindi ricevendo anche autocandidature. Ad esempio c'è chi ha la passione per le scalate in montagna e quindi racconta che scalare in montagna richiede concentrazione, determinazione e che è un po' come lavorare in banca. Anche che quindi quell'impegno che lui deve mettere nello scalare la montagna lo deve mettere anche nel suo lavoro. Oppure chi ha una passione per i viaggi e quindi è una persona che si ritiene dinamica e sempre con la voglia di partire ritrova questa dinamicità anche in cassa adicente. Quindi questo crea ovviamente curiosità ma anche collegamento e anche un senso di appartenenza maggiore rispetto ai valori che magari anche gli dipendenti un po' più resti non sapevano la cassa avere. Quindi è un progetto di racconto dell'identità della banca attraverso l'identità dei suoi dipendenti? Assolutamente sì nel senso che l'identità è fondamentale ma anche unicità quindi noi riteniamo che le persone abbiano un bagaglio di passioni talmente unico che deve essere comunicato. E poi soprattutto in un'azienda che ha tre generazioni all'interno e una quarta fra qualche anno è necessario creare un po' quell'osmosi che si fa soltanto con il cuore, con l'emozione e con le passioni.